Fabio Cannatà, Sprint e Sport. Oggi siamo qui con Salvatore Bifulco, tecnico del Fiamma Monza Under 15 al termine di questo derby pareggiato 1 a 1. Una gara bella, equilibrata. Io ho avuto la sensazione che a un certo punto eravate tutto sommato abbastanza in controllo e poi loro sono state brave a riaprirla, a pareggiarla con un guizzo. Come l'hai vista tu la partita in generale? Abbiamo fatto una discreta partita per le nostre qualità. Dal punto di vista tecnico abbiamo sbagliato molto. Una cosa che facciamo poco, per oggi è andata un po' male, diciamo. Però tutto sommato è stata una bella prova, abbiamo cercato di fare il nostro meglio. Abbiamo preso gol sulla costruzione, quindi è una cosa su cui noi lavoriamo tanto e ci crediamo tanto. Noi buttare la palla non ci piace, quindi abbiamo preferito scegliere di rischiare sempre e è andata un po' così. A proposito della costruzione, di non buttare, dicevi alle ragazze, il primo posto è andato, il secondo è andato. Dal terzo all'ultimo non cambia nulla. Giochiamo, divertiamoci, facciamo quello che sappiamo fare. Questo è un concetto che riesci a trasmettere facilmente a loro, all'essere sganciato un po' dal risultato. Sì, diciamo che questo è un gruppo molto maturo, anche se è sotto l'età di un anno. È un gruppo molto maturo che conosce le proprie qualità. Quindi, chiaramente, finché c'era la possibilità, l'obiettivo di arrivare nelle prime due non posso dire che non c'è stato. Nel momento in cui la seconda posizione ormai era andata, è giusto continuare il lavoro che stiamo facendo. Non lavorare per obiettivo di classifica, ma per obiettivo di qualità. A proposito di questi campionati, che sono un tema molto, secondo me, controverso da un certo punto di vista. Abbiamo di fatto tre campionati in uno, strani anche da valutare, da vivere, da giocare. Voi come la vivete? Diciamo che tolta l'Inter, secondo me, è un campionato molto equilibrato. Inter, Milan, Brescia, Atalanta fanno comunque un campionato a sé. Perché comunque hanno più struttura e riescono a selezionare molte più ragazze. Però, diciamo che io sto cercando di far passare il messaggio alle ragazze di non guardare mai l'avversario, ma lavorare ogni giorno per crescere loro e magari arrivare in questi grandi club. Ho visto che giocavi con la numero 4, Campanile, mi sembra che si chiama, che era in una posizione a metà tra la difesa e il centrocampo. Io sul mio taccuino l'avevo segnata come difensore, però vedevo che spesso avanzava, era la prima dall'alternazione. Volevo così un chiarimento tattico. No, noi giochiamo con due difensori, un mediano, che era lei, due mezzali, due esterni e una punta. Perché credo che giocando così riusciamo a occupare sia l'ampiezza con gli esterni, ma riempire l'interno del campo con due mezzali e un mediano. Ed è, secondo me, comunque che vai a creare sempre un vertice che sia alto con la punta o che sia basso con il mediano che favorisce il nostro modo di giocare, che è di tenere sempre il possesso e il dominio della palla. Ti sembra che la classifica sia un po' in linea con il potenziale della tua squadra? Siete arrivati a fare quello che dovevate o magari hai qualche piccolo rimpianto? Ma guarda, secondo me abbiamo fatto anche molto di più delle nostre aspettative. Facendo un campionato under 15, una squadra tutta sotto età, il rischio era di trovare tante squadre che ti mettevano sotto dal punto di vista fisico soprattutto. Invece, grazie alla qualità e alla loro applicazione, siamo riusciti comunque a sopperire a questa cosa. E secondo me siamo una squadra che tra il terzo e il quinto posto ci può stare tranquillamente.